Un ex volto di uomini e donne ha fatto una dedica d'amore alla persona che ama, dimostrando la forza della loro relazione Anche se in molti credono che le relazioni che nascono all'interno di uomini e donne non siano vere o siano destinate a finire, non sempre è così Sono tantissime le coppie nate grazie al programma e molti degli ex protagonisti della trasmissione convivono, si sono sposati o hanno avuto dei figli Altre coppie ancora vivono delle felici relazioni d'amore, magari a distanza, ma continuano felicemente il percorso iniziato in studio . Questo è anche ciò che è accaduto ad uno degli ex volti della scorsa edizione di Uomini e donne Anche se in molti non avrebbero scommesso un centesimo sulla sua relazione con la persona che ha scelto e parlavano di fuoco di paglia, l'ex protagonista ha invece fatto una dolcissima dedica d'amore alla persona che ama Ecco cosa ha detto.La dolce dedica d'amore dell'ex protagonista di Uomini e donne Nella scorsa edizione di Uomini e donne le troniste donne sono state piuttosto sfortunate, Manuela Carriero ha deciso di abbandonare in anticipo il trono, Ida Platano, invece, non ha voluto fare la scelta I tronisti uomini, invece, sono stati più fortunati perché tutti e tre hanno trovato l'amore, Brando e Fricchian con Raffaella Scuotto, Christian Forti con Valentina Pesaresi e Daniele Paudice con Gaia Gigli Punto in tanti pensavano che proprio la relazione tra l'ex tronista Daniele e la sua scelta, Gaia, sarebbe finita in poco tempo Tuttavia i due stanno vivendo una storia d'amore molto intensa, anche se a distanza perché lei vive a Milano e lui a Napoli I due si vedono spesso e hanno anche fatto delle vacanze insieme Inoltre lei li ha presentato suo figlio Diego, avuto da una precedente relazione Punto insomma, le cose procedono a gonfie delle, nonostante le malelingue di chi credeva che la loro relazione sarebbe finita subito A conferma del loro amore, Daniele ha postato una dolcissima stories con Gaia in cui le ha fatto una dedica bellissima Nella stories in questione si vedono l'ex tronista di uomini e donne Daniele insieme alla sua Gaia Si trovano al mare o in piscina e hanno entrambi i capelli ancora bagnati, forse perché hanno fatto un bagno Gaia ha un costume color sabbia con le conchiglie, ha gli occhi chiusi e la bocca come se volesse dare un bacio Daniele guarda verso la camera mentre si scattano questo bellissimo selfie Paudice scrive in questa stories una dolce dedica d'amore per la sua Gaia, infatti la tagga e scrive il mio sole con un cuore rosso Insomma, i due sono più innamorati che mai e questa stories, insieme a tutti gli altri contenuti che pubblicano sempre insieme, lo dimostra